Eccoci, caro Pino, per emergere i gruppi italiani sono costretti ad andare oltre confine, come Lacuna ad esempio, perché secondo te? Ma i Lacuna sono gli unici che sono riusciti ragazzi, non è che tutti fanno, tutti ci provano ma i Lacuna sono stati, noi ai tempi negli anni 80 con i Vanadium abbiamo avuto una proposta di trasferirci, ma vabbè i Lacuna hanno avuto il culo che sono con un'etichetta tedesca, non sono con un'etichetta italiana e i Lacuna prima di avere il successo che hanno avuto, ci sono fatti un mazzo così per anni, si meritano tutto il successo che hanno i Lacuna, veramente, ma ormai ragazzi c'è più niente, non c'è andando tutto a puttane, perché la discografia sta fallendo proprio, totalmente, perché la gente non compra più i CD e automaticamente le case discografiche chiudono, non ci sono soldi per investire e le band e i musicisti sono pieno del... Jack!